Come anticipato prima della pausa estiva, i lavoratori delle poste dell'Emilia-Romagna danno il via alla loro mobilitazione. Durerà fino al prossimo 14 ottobre il blocco degli straordinari deciso per protestare contro le poste per il taglio in regione di 429 zone di recapito e di 466 portalettere. In più ci sarà un giorno di sciopero il 12 ottobre con manifestazione nazionale a Roma. Secondo SLP CISL, SLCCGL e FAILP CISAL non c'è rimasto altro da fare perché le poste hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di recedere un passo, tanto che a partire da ottobre i primi uffici e le prime zone saranno tagliati. Di conseguenza, spiegano ancora i sindacati, da qui a qualche mese in Emilia-Romagna potremmo avere 120 uffici chiusi e 39 ridimensionati, vale a dire 429 zone di recapito sparite e 466 portalettere in esubero. Di qui la decisione di reagire con la mobilitazione a partire.